Il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato Alberto Lauri quale nuovo procuratore capo di Imperia. Lari lascerà la Procura di Genova, che lo ha visto impegnato quale sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia. Sulla decisione del supremo organo di autogoverno dei giudici, pare abbia influito il fatto che il territorio imperiese è considerato uno dei territori a maggior infiltrazione malavitosa d'Italia. Lari, fra le altre cose, si è occupato dell'inchiesta che ha svelato gli intrecci tra andrangheta e politica a Lavagna. E dell'inchiesta Maglio 3, che aveva portato in carcere i presunti boss legati alla criminalità organizzata calabrese, operante in tutta la Liguria.